ben tornati oggi parliamo di esami di ministri di ministri sotto esame di chiodi e di ministri che agitano chiodi e poi parliamo anche di multe e di vigili e di tasse insomma di tantissimi argomenti come sempre io sono massimo gramellini e questo è l'ammazza caffè l'ammazza caffè il sabato di giorno per giorno con massimo gramellini e cominciamo dal ministro sotto esame si resta esterrefatti nell'apprendere che un ministro della repubblica è stato costretto a sostenere un esame universitario alla presenza della polizia per motivi di ordine pubblico alessandro giuli che ha idee lontanissime dalle mie ma a cui riconosco una preparazione culturale di primordine ha ripreso da anni il suo percorso universitario e aveva già programmato quest'ultimo mattone cioè teoria delle dottrine teologiche per fine settembre avrebbe forse dovuto rinunciarvi perché nel frattempo era diventato ministro quindi un ministro finché in carica non può sostenere esami neanche per prendere la patente attenzione non stiamo parlando di un concorso dove la scelta in suo favore avrebbe determinato l'esclusione di qualcun altro ma del diritto di ogni studente di qualsiasi età di sottoporsi al vaglio del proprio insegnante forse non è di giuli che non ci si fida ma dei professori e più in generale dell'opportunismo degli italiani si immagina cioè che chiunque debba interrogare un ministro tenderà inevitabilmente a favorirlo o a sfavorirlo in base alle proprie convinzioni ai propri interessi poi però si viene a sapere che i collettivi non si preparavano a contestare lo studente giuli perché impreparato e privilegiato e neanche perché ministro ma perché ha un passato di estrema destra una notizia rassicurante per i futuri ministri con un passato di estrema sinistra che potranno laurearsi in santa pace moltissimi commenti quasi nessuno devo riconoscere centrato sul punto che il caffè cercava un po di prendere e cioè una persona che ha un ruolo pubblico istituzionale può continuare a tenere dei comportamenti da comune cittadino come quello per esempio di sostenere un esame sentiamo però invece cosa ha colpito di più di questa storia i lettori maria grazia marcedo scrive avrebbe già dovuto essersi laureato per fare il ministro i nostri figli chiedono minimo due lauree la conoscenza delle lingue e mille concorsi e colloqui per poter accedere al mondo del lavoro chi si governa avrebbe dovuto fare lo stesso non potete naturalmente accorgere dalla mia lettura ma questo messaggio è condito da moltissimi punti esclamativi che sono un po il linguaggio dei social cioè dell'indignazione e io capisco capisco è un ragionamento che io non condivido mi sembra un po semplicistico però lo capisco detto questo la laurea è uno strumento fondamentale ma naturalmente non si misura la cultura o la preparazione della persona in base ai pezzi di carta che ha quello è certamente un elemento diciamo così ma non è che la laurea sia un strumento necessario per svolgere determinate attività come per esempio quella del ministro non può essere ministro anche senza essere laureato si può fare politica senza essere laureati si può fare sindacato penso al padre del senacalismo italiano di vittorio che era un bracciante eppure era un uomo che sapeva il fatto suo e sapeva svolgere molto bene il suo lavoro serena borghigiani nel mondo degli umani dice prima si dà l'ultimo esame poi la laurea e solo dopo si ambisce un lavoro qualificato a cui altrimenti non può neanche candidarti qui il contrario e quindi tutto il contesto per di credibilità ma è un po vale lo stesso ragionamento di prima cioè giuli è un uomo di cultura lo posso testimoniare di vastissima cultura a prescindere dal fatto che sia laureato oppure no antonella barbieri che invece da un'interpretazione opposta sempre però legata all'opportunità o meno che giuli studi e dice il messaggio è chiaro non bisogna mai smettere di studiare di imparare vale per tutti anche per un ministro ismene infine ismene serino dice nessuno nega al ministro di diritto lo studio ma rimane anomalo il fatto che sia stato un esame a porte chiuse perché l'esame pubblico l'esame non è stato a porte chiuse è stata la presenza della polizia per motivi di ordine pubblico ma non era a porte chiuse in ogni caso anche se si fossero chiuse con le porte la ragione non era che l'aveva chiesto il ministro ma perché c'era una contestazione in corso nei suoi confronti però ripeto e qui mi colpisce che nessuno dei lettori l'abbia commentata era una protesta legata al suo passato giovanile di estremista di destra era questo l'elemento che avrebbe appunto suscitato la protesta dei collettivi studenteschi va bene cambiamo pagina passiamo ad un altro ministro che non so quante lauree abbia ma è il ministro dei trasporti a cui ho dedicato il caffè intitolato appesi a un chiodo da quando il ministro dei trasporti ha rivelato che a bloccare la circolazione ferroviaria dell'intero paese era stato un chiodo un piccolo miserabile chiodo piantato sopra un cavo non riesco a pensare ad altro che all'anonimo operaio che nel cuore della notte vibra quella fatale martellata avrà avuto coscienza degli effetti del suo gesto insano d'altronde se il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo è perfettamente credibile che un singolo chiodo sia riuscito a crocefiggere migliaia di passeggeri stravolgendo la giornata di aziende famiglie tassisti macchinisti controllori facchini borseggiatori chiedo scusa per essere cimentato in un tipico elenco salviniano senza tuttavia possedere il talento del titolare ebbene ogni governo si sa alla sua dannazione e quello in carica sembra ossessionato dai treni ricordate il freccialollo con le fermate personalizzate gentile richiesta del signor ministro dell'agricoltura e il pasticciaccio brutto di ferragosto con i lavori sui binari programmati proprio per la settimana dell'esodo evidentemente non si era riusciti a finirli tutti rimaneva ancora un chiodo salvini ha addossato la colpa a una ditta privata scelta dallo spirito santo immagino ma intanto una cosa è certa se è vero che ai tempi del duce i treni arrivavano in orario questo è il governo più antifascista della storia commenti marina marina marchetti credo che nella storia della nostra repubblica nessun ministro abbia guagliato salvini per incompetenza supponenza arroganza superficialità anche lei però è caduta nel mio stesso vizio di cimentarsi in un elenco alla salvini lasciamoli fare a lui che è maestro in queste lunghissime liste non ci posso credere dice marina che un paese possa essere governata da gente di si fatta specie ma marina abbiamo avuti un vasto campionario anche prima di salvini non è stato il primo e tema non sarà l'ultimo stefano chiarle un sistema che gestisce gran parte del traffico ferroviario non prevede un piano b in caso di crash e la risposta è no lo prevede evidentemente non lo prevede roberto canini io ero uno di quelli che pensava che i servizi pubblici dati ai privati sarebbero stati più efficienti e invece in italia sono riusciti a compiere un piccolo capolavoro cioè abbiamo sommato dice roberto i difetti di un servizio pubblico ai difetti di un servizio privato che pensa solo al profitto quindi c'è l'inefficienza del pubblico si va ad assommare alla rapacità del privato e il risultato è quel chiodo famoso michela mucciarelli è interessante vedere come il problema dell'ineguatezza delle linee ferroviarie emerga solo quando sono coinvolti i nodi più importanti cioè appunto il frecciarossa e l'alta velocità io da pendolare sulla disastrata linea via reggio firenze mi viene da sorridere perché qui di disagio i ritardi e cancellazioni il nostro pane quotidiano ma non importa nessuno ha ragione io capisco che poi ognuno vede sempre i problemi col proprio vissuto con la propria esperienza personale però mi chiede il fatto è che ovviamente quando un disagio tocca le linee principali coinvolge contemporaneamente nello stesso istante decine di migliaia di persone è ovvio che invece i disagi su quello che invece sono le linee come le dice secondarie coinvolgono ancora più persone ma in maniera frammentata e non è lo stesso impatto anche dal punto di vista mediatico un po la ragione per cui le cose che capitano a romo a milano hanno un eco molto più ampia di quanto spesso identici disagi che accadono però in una città piccola perché comunque la cassa di risonanza è maggiore maria borrelli dice che paese è il nostro se è possibile fermare i treni con un chiodo in pratica chiunque può attentare alla nostra sicurezza e chiude direi con una battuta definitiva siamo arrivati a un binario morto e dai binari passiamo invece ai vigili e alle reazioni un po così particolari che ogni tanto l'intervento dei vigili può creare in un personaggio vip a cui ho dedicato il caffè intitolato istinti bassetti il professor bassetti va sui social con la faccia tirata e denuncia di essere rimasto vittima di un'odiosa discriminazione vediamo in occasione della festa di compleanno il suo figliolo sedicenne avrebbe alzato il volume della musica in casa ma giusto un pochino quando ecco materializzarsi alla porta una pattuglia di vigili posseduti dall'insana smania di stilare un verbale se nel video bassetti si limitasse a minimizzare le colpe del pargolo e a criticare i vicini dall'udito sensibile che in un eccesso di zelo hanno mobilitato la polizia municipale beh rientrerebbe ancora nel cliché dell'italiano che appena viene colto in fallo estende la sua autoindulgenza ai parenti più prossimo e invece no l'infettivologo divenuto popolare ai tempi del covid si spinge ben oltre accusando i vigili di invidia sociale nei confronti di chi come lui abita nei quartieri residenziali rinfaccia loro testualmente di comportarsi da deboli con i forti e da forti con i deboli con ciò auto assegnandosi una patente di debole smentita peraltro dal buon senso e anche diciamolo dal senso del ridicolo non pensiate che bassetti rappresenti un caso isolato il mondo è pieno di persone influenti e famose che si sentono perseguitate per il solo fatto di essere tali e accusano le istituzioni di sfavorire sfacciatamente i poveri diavoli speriamo si tratti di un virus perché in tal caso il professor bassetti avendolo già preso potrebbe aiutarci a trovare gli anticorpi commento del lettore erica regis gianas tutta la mia solidarietà ai vigili e ai suoi vicini di casa devo dire che su questo caffè non c'è stata la divisione dei lettori abbastanza unanime condivisa diciamo la critica nei confronti del comportamento soprattutto ripeto di questa curiosa decisione di bassetti di sostenere che le istituzioni se la prendono più con i ricchi e con i poveri non è diciamo una un'opinione condivisa penso dalla maggioranza degli esseri umani cinzia cinzini la cosa sorprendente è che i vigili si siano mossi per una cosa simile di solito non arrivano neanche se li chiami sotto casa durante un rave alle tre del mattino con sacrifici umani e balli propizzatori a suon di tambori quindi da quel che ho detto cinza è addirittura i vigili sostengono avere suonato il citofono di bassetti ma la musica era talmente alta che non si sentiva neanche il sonno del campanello e pare che poi nelle vicinanti ci sia anche una casa di cura forse da lì che hanno telefonato forse è proprio stato il fatto che ci fosse una casa di cura lì vicino a spingere i vigili a intervenire con questa celerità emilia diana insomma va al sodo dice è stata colto in fallo si scusi paghi la multa come qualsiasi altro cittadino onesto e davide ficco appunto invece sull'aspetto della fama la notorietà dalla testa molti che si sono adoperati proprio per essere noti infine mi sembra un finale splendido quello che ci regala fabio massimo augugliari citando il maestro della comicità italiana il padre di tutti crozza e di tutti quelli che sono arrivati dopo di lui sto parlando proprio di ettore petrolini che citando la meravigliosa maschera del gastone dice fabio massimo il nostro lettore bassetti si è mosso senza orrore di se stesso che era una famosa di petrolini e proprio a petrolini vorrei affidare la conclusione perché in queste ore stiamo parlando tantissimo di tasse chi dovrà pagare queste nuove tasse o comunque ci sarà una patrimoniale o comunque qualunque forma di pagamenti ulteriori per risanare il debito per pagare questi interessi che ci stanno davvero mangiando il capitale di questo paese ebbene cosa avrebbe detto petrolini anche allora si dibatteva che le tasse le dovevano pagare i ricchi oppure no e petrolini con una battuta passata ormai la storia che ha ormai più di cent'anni diceva non bisogna dare le tasse ai ricchi le tasse infatti sono troppo pochi ricchi bisogna prendere il denaro dove si trova presso i poveri perché è vero che hanno poco ma sono tantissimi e questo diciamo è un consiglio che molti governanti hanno seguito senza pensare che invece era una battuta io vi auguro un buon fine settimana e ci sentiamo nel prossimo weekend con il prossimo ammazza caffè questo era l'ammazza caffè il sabato di giorno per giorno con massimo gramellini giorno per giorno è il podcast quotidiano del corriere della sera a cura di francesco giambertone coordinamento di tommaso pellizzari produzione di carlo annese con Emanuele Iannuzzo